Oggi non c'è creator che non appoggi una o più cause dalla sostenibilità ambientale alle minoranze, body positivity, eccetera. Da una prima fase in cui sui social si poteva sbarcare il lunario parlando di se stessi, della propria quotidianità, del prendere il caffè, eccetera, si è dovuto passare poi a una fase in cui era molto più difficile catturare l'attenzione da parte degli utenti e poi anche costruire una relazione. Noi non vogliamo vedere veramente delle vite normali, ordinarie, noiose, fallimentari. Noi vogliamo vedere delle vite abbastanza realistiche per poterci immedesimare in loro, non vederli come distanti, divi assolutamente irraggiungibili, ma anche aspirazionali, cioè quindi personaggi che ci mostrano un mondo migliore. Gli algoritmi ci hanno abituato a vedere cose in base alla visibilità, alle vanity metrics, alla popolarità. Questo secondo me sta andando un po' verso il declino, le persone stanno cercando nuovi criteri qualitativi per selezionare i contenuti, per capire dove andare sui social e la gente fa fatica a trovare qualcosa di interessante da dire. Farlo soprattutto con il ritmo che richiedono le piattaforme, perché gli algoritmi vogliono che per essere visibili si pubblichi con enorme costanza e abbondanza, quindi c'è un problema di qualità e anche un problema di quantità. Non a caso proprio l'intelligenza artificiale sta venendo incontro a questa necessità, diciamo così, algoritmica di produrre in maniera industriale contenuti supportando appunto i creatro, le agenzie di influencer marketing, insomma tutto il comparto della comunicazione nel creare contenuti come un po' una catena di montaggio, quindi contenuti a basso valore aggiunto ma che riescono a mantenere alto il flusso. Io credo che questo in realtà sarà una bolla che andrà effettivamente a spegnersi, perché le persone sono sempre più sature, fanno fatica quindi a rimanere attaccata a questo flusso continuo di contenuti inutili. Il fatto che la generazione Z sia molto influenzata dai creatro, dagli influencer nelle sue scelte di acquisto è un dato rilevante a livello non solo nazionale ma mondiale, per cui oggi per appunto creare dell'advertising che funzioni per la generazione Z, quindi quella più o meno fino ai 27 anni, è importante se non indispensabile appoggiarsi all'influencer industry. I soldi dalle piattaforme ne girano molto pochi, se non si hanno milioni di visualizzazioni è difficile guadagnare realmente uno stipendio con TikTok o con YouTube e quindi il vero business avviene o attraverso appunto le sponsorizzazioni, però per molti creator questo non può esistere e quindi stanno emergendo dei diversi modelli di business. Ci si lancia nello scrivere libri, quindi produrre merchandising, fare eventi e spettacoli, creare collaborazioni con musei, gallerie, scuole, quindi si diversifica, il business si diversifica ed è comunque un business molto molto ristretto rispetto a quello che invece si guadagna con le sponsorizzazioni, però abbiamo detto che quello è un ambito che riguarda solo determinati creator, quelli che si occupano di moda, di bellezza, di turismo, di videogame, insomma di prodotti. Sicuramente l'idea di abbinarsi a dei valori è stata una mossa vincente. Sul fatto che sia o non sia autentico a mio avviso è una domanda molto particolare perché bisognerebbe chiedersi cosa voglia dire essere autentici oggi, soprattutto per una serie di persone che sono nate e cresciute all'interno di questi contesti mediali dove quindi la distinzione tra persona e personaggio è difficile. L'autenticità che viene richiesta in influencer non è un'autenticità pura ma è appunto una negoziazione. I giovani sono cresciuti con l'idea che l'autenticità è un qualcosa che va negoziato, è un patto che si costruisce tra noi e i nostri personaggi mediali. Noi non vogliamo vedere veramente delle vite normali, ordinarie, noiose, fallimentari. Noi vogliamo vedere delle vite abbastanza realistiche per poterci immedesimare in loro, non vederli come distanti, divi assolutamente irraggiungibili, ma anche aspirazionali, cioè quindi personaggi che ci mostrano un mondo migliore.